ah eccoci tornati ciao ragazzi ben ritrovati al vostro salmo interista allora prima di iniziare con il video ragazzi breve premessa vi devo dare una notizia importante e un'altra un po meno importante allora la prima è quella meno importante ovvio so più che altro scuse perché non sono stato attivo questi giorni però scusate raga è giugno anche per me devo preparare gli esami per l'università quindi brutta pure per me brutta pure per me allora allora l'altra notizia invece è che ho comprato un treppiede per il telefono per magari cercare di fare dei video un po più fatti bene tra virgolette perché insomma appoggiare il telefono così è proprio il come si dice la soluzione un po trovata lì così però mi piacerebbe comunque fare dei video un po un po fatti meglio con treppiede che mi regga il telefono insomma mi dovrebbe arrivare verdi vi farò ovviamente dei video di prova così per ovviamente parlerò di qualcosa però sarà un po un testo per vedere se a voi piace e se vi potete parlare così per il resto possiamo anche iniziare perché ho finito le notizie quindi ragazzi oggi parliamo di Dzeko ragazzi perché ho detto di nuovo ragazzi vabbè Dzeko un'altra volta che dovrebbe venire all'Inter perché la dirigenza dell'Inter vuole Dzeko Conte vuole Dzeko che lo voleva anche al Chelsea e adesso a quanto pare Dzeko è vicino a firmare con i nerazzurri oddio a firmare no però insomma è vicino ai nerazzurri allora molti in rete stanno già si stanno già dividendo in rete allora chi dice wow Dzeko è un grandissimo giocatore mi piacerebbe qua e là e chi dice nome a un bitone è sopravvalutato è vecchio questa stagione ha fatto schifo bla 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 vendiamo uno di 26 anni per prendere uno di 34 insomma c'è un po una divisione allora io mi schiero dalla parte di quelli che piace Dzeko a me Dzeko piace ragazzi è vero ha un'età avanzata ma ricordatevi una cosa naggia sto ciuffo del cavolo ricordatevi una cosa Dzeko non viene a Milano per fare il titolare assolutamente Dzeko non viene a fare il titolare Dzeko viene per fare la riserva e come riserva regà tanto de cappello perché Dzeko cioè è vero che è un po altalenante nel senso che una volta fa bene una volta un po tipo Brozovic no che una volta fa bene due volte fa male un'altra cinque fa bene un'altra sei fa male insomma è un po altalenante anche lui non è continuo però quando regà è in forma Dzeko ti cala su ti cala delle prestazioni da fenomeno da fenomeno vi ricordate in Champions un anno fa in Champions un anno fa cioè più di un anno fa in realtà cioè vi ricordate le prestazioni il gol che ha fatto al Chelsea al volo di sinistro proprio contro Conte al volo di sinistro cioè io non so se ve lo ricordate Dzeko quella partita ma come in tante altre Dzeko regà è un giocatore che se sta bene se sta in giornata è fenomenale fenomenale veramente ti ti può anche risolvere la partita da solo perché comunque sa tirare dalla distanza e l'ha dimostrato parecchie volte a Roma lasciate perdere questo anno a Roma perché cioè mi trovate un giocatore nella Roma che possa essere definito sufficiente a parte forse Mirante e Manolasso un pochettino anche se lui mi trovate un giocatore che possa essere definito sufficiente? cioè la Roma è arrivata sesta in classifica l'anno scorso e la seconda scusate terza non seconda terza cioè è normale che Dzeko è vero che è forte ma non è che può tirare un attacco una squadra completa se la può tirare da solo fino a fine stagione cioè è normale ha bisogno anche di una squadra dietro che lo aiuta per forza comunque io ripeto per Dzeko è un grande acquisto grande acquisto si parla di cifre intorno ai 10 15 milioni la Roma ne vorrebbe 20 25 però a quanto pare si starebbe trovando l'accordo per una cifra un pochettino più bassa e dovrebbe firmare diciamo diciamo che si ha l'intesa per un triennale sto leggendo per un triennale da oltre 4 milioni di euro allora io non penso che lo stipendio ormai per l'inter sia un problema insomma se vogliamo comprare i giocatori forti bisogna pagarli anche tanto quindi è normale diciamo che non mi preoccupo per lo stipendio e neanche per il prezzo fondamentalmente perché comunque 20 milioni per i prezzi che girano oggi 20 milioni ci stanno per un giocatore come Dzeko non in assoluto nel senso che io sapete i prezzi di oggi non li sopporto nel senso per me sono troppo alti per me Dzeko varrebbe 10 milioni e basta però con i prezzi che girano oggi 20 milioni va bene però vediamo come andrà a finire volevo anche aprire un piccolo capitolo su barella perché a quanto pare l'inter sta premendo su barella adesso vado anche a cercare la notizia perché perché a quanto pare barella vuole l'inter ma vedremo anche questa ci abbiamo provato anche per van de beck noi tra l'altro sto leggendo adesso questa mia nuova van de beck però quando pare non c'è van de beck viene da noi dopo che ha fatto la mi sembra strano allora sinceramente barella io l'ho detto io sono un estimatore di barella rega mi piace tantissimo è un giocatore che amo amo e l'ultima volta che ho detto che volevo barella all'inter mi soppiato non lo so gli insulti tutti cagliaritani ci sono qui però a quanto pare potrebbe venire non è ovviamente sicuro è però però a quanto pare barella vorrebbe venire all'inter però vediamo un po perché comunque il costo non è proprio abbordabile si parla di 45 barra 50 milioni che sono tantissimi rega tantissimi ma ricordiamoci che barella rega un giovane che c'ha quant'anni c'ha non mi ricordo non mi ricordo quant'anni c'ha barella vabbè comunque è giovane rega non penso abbia più di 23 anni adesso sicuramente penso ne abbia di meno però comunque è giovane rega un centrocampista giovane che sta esplodendo in questo momento e quindi secondo me è un grandissimo acquisto cioè con barella rega mettendoci a fianco anche ovviamente dei senatori dei giocatori di esperienza può solo che crescere può solo che crescere l'inter qui dice non vuole superare quota 30-35 milioni ma io dubito che a 35 milioni ti danno barella perché insomma se parte da 50 diciamo che il Cagliari non è che si voglia privare tanto di barella si parlava anche di Chiesa ma Chiesa a quanto pare il prossimo anno rimarrà la Fiorentina perché è stato proprio detto dalla società della Fiorentina che Chiesa sarà un giocatore della Fiorentina diciamo al 90% poi ovviamente i colpi di scena ci possono sempre stare ma ovviamente a Chiesa io lo prenderei subito io eh però vedremo quello che succederà ragazzi come al solito io invito a scrivermi nei commenti quello che ne pensate di questi acquisti di questi giocatori se vi piacerebbero o no e ovviamente iscrivete anche al canale attivando la campanita per essere sempre aggiornati su tutti i miei video mi sto mangiando le parole mi piace seguitemi su Instagram e come al solito ragazzi noi ci vediamo e non prossimo video ciao